Il grande basket femminile torna a Taranto con l'arrivo delle ultime delegazioni straniere e tutto pronto per il torneo che da venerdì a domenica vedrà impegnate al Palamazola le nazionali femminili under 17 di Italia, Australia, Spagna e Ungheria, tutte qualificate all'imminente mondiale nella Repubblica Ceca. L'ingresso a tutte le partite è libero per una manifestazione fortemente voluta dal comune di Taranto che ha deciso di rilanciare l'immagine della città anche grazie allo sport. Sì, diciamo che questa è un'occasione veramente importante per Taranto e per la Puglia, sia per i tecnici che per le giocatrici, di avere la possibilità di osservare durante questo periodo di preparazione la nazionale under 17. È un avvenimento sicuramente da non sottovalutare perché avremo l'occasione a Taranto di vedere nel torneo la Spagna, l'Ungheria e l'Australia che sono tre delle altre squadre classificate per i campionati mondiali che sono nazionali di assoluto valore. Basta pensare che l'Ungheria l'anno scorso con la nazionale del 16 per la prima volta ha vinto una storica medaglia purtroppo ai danni della nazionale italiana, che la Spagna campione d'Europa è anche vice campione mondiale in carica e che l'Australia è quinta classificata. Nel loro roster ci sono giocatrici di sicuro interesse, alcune di loro nella passata edizione campionato europeo sono state inserite nel Mjork Quintetto, quindi credo che il valore della manifestazione sia di livello veramente importante. Il raduno delle azzurre nella città dei due mari proseguirà fino a mercoledì 25 giugno, intanto si prospetta un torneo ad alto coefficiente di difficoltà. Dopo un sorprendente quarto posto nell'ultimo europeo, la stessa formazione italiana vuol stupire ancora e lo farà contando sulla partecipazione del pubblico competente e appassionato del Palamazzola di Taranto.